Il Pescara studia la linea per dimostrare la sua estraneità alle contestazioni della Procura federale, secondo cui la società biancazzurra, come anche Parma e Pisa, attraverso plusvalenze gonfiate e quindi attribuendo a calciatori valori superiori a quelli di mercato, sempre che esistano dei parametri oggettivi per una loro definizione, hanno dato al proprio bilancio una rappresentazione tale da ottenere l'iscrizione a dei campionati cui altrimenti non sarebbero stati ammessi in base alle disposizioni vigenti. Questo dice il punto 2 dell'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, tirato in ballo dalla Procura federale, mentre per le altre otto società coinvolte da questo primo filone di inchiesta sulle plusvalenze, Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa, Empoli, Provercelli e le non più affiliate Chievo e Novara, c'è solo il punto 1 che prevede al massimo una ammenda con diffida. Il Pescara ha tempo altri dieci giorni per depositare una memoria difensiva o chiedere di essere ascoltati. Le strade per convincere la Procura ad archiviare il procedimento. In caso contrario o in caso le spiegazioni di questa fase non fossero sufficienti, la Procura farà scattare il deferimento davanti al Tribunale federale nazionale. Si aprirebbe il procedimento sportivo vero e proprio, che porrebbe due problematiche. Da una parte respingere le accuse, che se accolte dagli organi di giustizia sportiva, porterebbero a sanzioni che vanno da una penalizzazione in classifica a quelle più gravi di retrocessione all'ultimo posto o esclusione dal campionato. L'onere della prova, nella giustizia sportiva, è a carico di chi si difende, dunque del club. E poi i tempi. Un eventuale deferimento comunicato nella prima decade di marzo porterebbe ad una udienza di primo grado celebrata nella metà di aprile. Il campionato si chiude a fine mese e il rischio è quello di definire una griglia play-off con un verdetto non definitivo. Eventuale secondo grado da discutere a maggio, con i play-off in pieno svolgimento. Spetterà a Lega e Federcalcio gestire una situazione delicata. Pisa e Parma giocano in B e i Toscani sono in lotta per la seria diretta. Il caso più recente di condanna per plusvalenze fittizie risale all'estate 2018, quando Cesena e Chievo furono deferite per operazioni incrociate, fatte sovrastimando i cartellini dei giocatori scambiati. Alla fine di una vicenda intricata, il Cesena ebbe 15 punti di penalizzazione in primo grado, ma in quella stessa estate sparì e il procedimento non andò oltre. Il Tribunale federale riconobbe delle differenze al Chievo che venne punito meno severamente con tre punti di penalizzazione. La procura ne chiese 15, meno tre che fu confermato in secondo grado dalla Corte federale d'appello e in terzo grado dal Collegio di Garanzia del Coni. Il presidente del Chievo, Campedelli, venne inibito per tre mesi. Grazie.